La cardiochirurgia universitaria di Catanzaro non ha il possesso dei requisiti di legge per l'attività. Lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle, Dallena Nesce e Paolo Apparentela, il quale si è personalmente recato nel reparto insieme alla consulente Gianluigi Scaffidi, compiendo una nuova ispezione che smentisce la recente delibera con cui l'ASP di Catanzaro ha certificato il possesso dei requisiti. Da qui hanno spiegato i 5 Stelle in un'apposita conferenza stampa nel Comune. Le ragioni del nostro specifico esposto al procuratore Nicola Gratteri, in cui abbiamo precisato che la cardiochirurgia universitaria non ha ancora una terapia intensiva dedicata, non ha due sale operatorie dedicate ai soli pazienti cardiochirurgici, benché obbligatorie, ha 14 infermieri sui 29 imposti dalla normativa e non ha un percorso e delle procedure dedicati per la rianimazione. Con lo stesso Scaffidi, con il consulente Tullio Laino, i parlamentari 5 Stelle hanno inoltre illustrato gli altri due esposti alla procura, uno sul falso materiale prodotto nella struttura commissariale riguardo alla costituzione in giudizio della Regione Calabria contro alcuni municipi in fatto di rete ospedaliera, l'altro sul recente decreto commissariale che ha modificato la normativa sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie. Sì, tre nuovi esposti perché non ce li assegniamo al fatto che in Calabria le procedure, le leggi non vengano rispettate. Abbiamo fatto un esposto su un altro abuso del commissario Oscura che con un decreto ha surclassato la legge regionale numero 24 sull'accreditamento, quindi ancora un abuso di potere. Poi l'altro esposto riguarda un falso che abbiamo rinvenuto grazie ai documenti che abbiamo ottenuto per quanto riguarda la sottoscrizione della costituzione in giudizio contro i sindaci che avevano impugnato la rete ospedaliera da parte della Regione Calabria. Ed infine un'altra segnalazione o integrazione dei nostri esposti sulla cardiochirurgia universitaria perché ovviamente anche lì ci sono state grosse lacune e omertà di vari uffici nel recepire l'adeguamento di questi requisiti strutturali ed organizzativi. Stamattina c'è stata un'ispezione ancora lì nel reparto, abbiamo visto che ci sono parziali adeguamenti quindi noi già vogliamo subito le scuse del sindaco Abramo, dell'onorevole Tallini e di tutti quelli che in questo tempo ci hanno osteggiato e sbeffeggiato per la richiesta di legalità e di adeguamento dei requisiti proprio per la tutela della salute dei pazienti. Io stamattina sono riandato lì nel reparto, quindi a distanza di un anno dalla nostra visita ispettiva abbiamo notato che stanno cercando, tentando di mettersi a norma, hanno messo una vetrata per creare appunto la terapia intensiva dedicata ma non basta, ci sono ancora altre carenze ma il fattore più importante è che si stanno mettendo a norma, quindi vuol dire che prima non lo erano e quindi vuol dire che la denuncia che fece il primario Renzulli all'epoca era più che giusta, era più che fondata.